Ho trovato una città sporca e disordinata in ogni angolo, dalle strade ai vicoletti. Persino il terrazzo del municipio versava incredibilmente in condizioni precarie, con la presenza di vasi sguarniti e sporcizia. È la prima analisi di Domenico Gambacorta, meno di una settimana dalla sua elezione a sindaco del Tricolle. Il neo primo cittadino ha chiamato a raccolta tutti gli operai, dal servizio ecologia, giardinaggio e ufficio tecnico, al fine di restituire immediatamente ordine e decoro alla città, partendo proprio dalla Casa del Popolo. Ma non sarà solo la piazza ad essere interessata da questi interventi, ci dice. Di concerto con la comunità montana dell'Ufita è partita la bonifica del Boschetto Pasteni, in contemporanea con i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. Uno scenario a dir poco disgustoso e vergognoso, quello presentatosi davanti agli operai, che tra non poche difficoltà hanno avviato le operazioni di pulizia del Boschetto. Un luogo incantevole, molto suggestivo, che purtroppo chi lo frequenta giornalmente non ha mai saputo amare e proteggere. I risultati sono questi che vedete. Gli operai si sono visti costretti a raccogliere bottiglie di alcolici, siringhe, rifiuti e schifezze di vario genere. L'erba, altissima in molti punti, ha letteralmente avvolto il percorso fino a renderlo invisibile. Lo stiamo liberando, cercheremo di ripristinare al meglio il sentiero, ci dice un operaio, ma non si riducono in queste condizioni luoghi così belli. La manutenzione deve essere continua e soprattutto bisogna avere maggiore rispetto per l'ambiente. Ci avevano provato in qualche modo anche gli scout ad adottare e proteggere questo luogo, ma neanche la loro presenza è servita a scoraggiare i soliti incivili, autori persino di atti di vandalismo nei loro confronti. La speranza è che d'ora in avanti vi sia maggiore attenzione da parte di tutti, che il comune faccia la sua parte costantemente e i giovani mostrino un maggiore senso di responsabilità per questo bene comune che potrebbe rappresentare soprattutto durante l'estate, come già sperimentato a pieni voti dai Red Sox, una zona piacevolissima per ospitare turisti e amanti della gita fuori porta.